Vuoi prenderti cura della tua auto e non pensare a nient'altro? Affidati all'Autofficina Carrozzeria Alimonda. Esperienza, cura dei dettagli, servizi di qualità, tecnologia di ultima generazione. Da oltre 60 anni il punto di riferimento per l'automobilista. Carrozzeria, officina, gestione sinistri, autolavaggio, soccorso stradale, elettrauto. Per l'assistenza della tua auto, resta a casa. Alimonda provvede al ritiro e alla riconsegna della tua auto ad ovicilio senza costi. Ti aspettiamo! Grazie a tutti!